Il colpo inferto dalla pandemia, oltre che essere stato gravissimo sulla popolazione, è stato molto duro anche sull'economia. Si stima che a fine del 2020 la perdita per il nostro Paese in termini di reddito, in termini di PIL, sia di circa 180 miliardi di euro, tra i 9 mila e i 12 mila euro in meno per nucleo familiare. I timori per la tenuta del sistema produttivo conseguente a questa crisi sono molti e questo ha reso evidente una volta di più che il nostro sistema produttivo non può più basarsi su un vecchio modello. Da queste considerazioni è nato Lab4Growth, un laboratorio per la crescita che possa mettere in circolo nuove idee per fare impresa e agire da incubatore. Lab4Growth è un'innovativa proposta di formazione in cui persone con competenze diverse si mettono insieme per giudicare e per trovare delle soluzioni rispetto ai problemi più urgenti che sono emersi dopo il coronavirus e nel cosiddetto new norma. L'utilizzazione è al momento la possibilità di creazione di valore più grande che abbiamo, sia come tradizionalmente si pensa nel mettere in piedi un sito di e-commerce e di generare traffico digitale sulle nostre piattaforme, sia ripensando da zero tutti quanti i processi aziendali, anche di manufacturing, di supply chain e di acquisti. Con Lab4Growth vogliamo capire la digitalizzazione per aiutarci a comprendere i trend, ad adeguarci agli standard di mercato e a sfruttare l'occasione che la digitalizzazione porta appunto per tutte le nostre attività e per tutte le nostre aziende. Semplicemente direi per competere, per poter competere. Digitalizzare vuol dire semplificare i processi aziendali, cioè fare le cose meglio delle nostre cattive abitudini e anche digitalizzare per avere i dati e gli strumenti per leggerli e quindi per essere in grado di prendere decisioni consapevoli. Lo smart working che si è diffuso in modo incredibile durante la pandemia ha la possibilità di diventare un nuovo modo di lavorare, ma perché questo sia efficace, perché questo sia profittevole, è necessario che cambi anche l'organizzazione del lavoro. Quindi in questo modulo verranno affrontate sia il tema della nuova organizzazione del lavoro che come lo smart working può diventare un nuovo normale nell'ambito del mondo del lavoro. Nella preparazione del terzo modulo che si chiama imprese in rete, siamo partiti da una constatazione, dall'importanza che rivestono le piccole imprese nella nostra economia, come queste siano molto spesso fonte di innovazione particolarmente apprezzabile, ma che strutturalmente siano imprese sempre più minacciate dai cambiamenti globali, con una forte necessità di salvaguardare un patrimonio imprenditoriale che questa nazione ha, ma che molto spesso sembra affievolirsi o comunque essere minacciato dai cambiamenti complessivi.